se vogliamo raccogliere i racconti delle macerie dobbiamo farlo fino in fondo speriamo che non ci sia nessuno che ci abita in questo momento permesso non posso neanche dire guarda in che bel posto che ti ha portato vabbè ha il suo perché dai è il suo fascino devi venire a fare un concerto qua sì davvero è che non te lo fanno aprire secondo me c'è un bel rave qua solo che adesso è veramente troppo sgarruppato però è violento di per sé questo posto il vecchio faro di fiumicino ciao Mark eccoci qua il violino pronto ci stiamo anche già facendo le riprese eccoci qua il violino è pronto quando sono partito da Capocotta non avrei mai potuto immaginare che in questo viaggio sarei andato così vicino a due dei miei sogni entrare nel bar di Guerre Stellari e incontrare un Jedi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti